Ringraziano per l'affetto ma sperano che non si faccia nulla per evitare esternazioni pubbliche su argomenti spesso controvertibili. Le famiglie Piscaglia e Alessandrini invitano a non partecipare alla fiaccolata per guerrina la cinquantenne scomparsa da Caraffaello nella retina il primo maggio di un anno fa organizzata da un gruppo social di Nova Feltre nel Riminese per evitare esternazioni pubbliche su argomenti spesso controvertibili. L'invito è arrivato tramite una nota firmata dall'avvocato che rappresenta le famiglie, il legale Francesca Fagiotto. Le famiglie ringraziano per la solidarietà ricevuta in questo lungo e tristissimo anno in merito alla vicenda che ha coinvolto Guerrina, si legge nella nota. Gli sviluppi investigativi ad oggi hanno portato all'incriminazione di Graziana Labi per omicidio volontario e occultamento di cadavere, inducono i familiari non partecipare alla fiaccolata di venerdì 8 maggio pur apprezzando la dimostrazione di vicinanza. Le famiglie Piscaglia e Alessandrine esprimono piena fiducia nel lavoro di inquirenti e nei confronti della magistratura uniche autorità preposte a far luce sulla scomparsa della loro congiunta. Nella nota si invitano tutti coloro che hanno elementi a fornirle le autorità competenti evitando inutili esternazioni pubbliche su argomenti spesso controvertibili che ledono la privacy rispetto di Guerrina, del marito Mirko e delle famiglie coinvolte. Intanto sarebbe stato rintracciato da Iti padre Gian Battista, padre Giovanni Battista come veniva chiamato a Caraffaello, il religioso che sostituì la scorsa primavera al parroco padre Faustin quando questi si trovava in Africa non è mai stato sentito dagli investigatori della procura di Arezzo dal momento che fu trasferito subito dopo la sparizione di Guerrina denunciata nei primissimi giorni come probabile allontanamento volontario. Padre Gian Battista aveva diviso la canonica con padre Silvano attualmente in Congo e con padre Garziano rincarcere per omicidio volontario e soppressione di cadavere nell'ambito dell'inchiesta sulla sparizione di Guerrina. Gli investigatori potrebbero sentirlo a patto che le autorità haitiane lo consentano. Non è escluso neppure un nuovo interrogatorio con padre Silvano ascoltato solo una volta inizio indagine.